Ed ecco ancora la nostra sigla che scandisce tutti i momenti di questa giornata di lavoro per il nostro HR Forum e adesso dopo la tavola rotonda che abbiamo appena archiviato ne apriamo immediatamente un'altra mettendo al centro dell'attenzione un altro tema che è diventato sempre più importante in questi due anni in cui il mondo del lavoro è cambiato cioè la persona la centralità della persona perché a causa proprio della pandemia chi ne ha risentito di più siamo stati tutti noi quindi le singole persone inevitabilmente le aziende le imprese quindi i responsabili del risorso umano hanno dovuto sempre di più garantire la centralità delle persone mettendo in pole position le diverse esigenze e i bisogni di ciascun individuo anche rapportando a il modo di lavorare che è cambiato con la modalità da remoto che ha inevitabilmente modificato anche tutti i rapporti tra le persone stesse questo è un po' un mantra che oggi continueremo a ripetere perché è fondamentale però come vedete da questa premessa poi questa premessa ci dà modo di aprire tante parentesi che fanno parte naturalmente di un unico discorso ed un unico argomento quindi in questa tavola rotonda parleremo di people caring cioè come effettivamente le imprese sono riuscite in questo periodo a andare verso i bisogni di tutti i lavoratori tutti i collaboratori sicuramente con delle strategie che sono state modificate e che devono adesso diventare sempre più strutturali cercheremo di capirlo con federica di lauro i miei ospiti sono venuti in studio quindi li ringrazio per essere qui responsabile welfare e comunicazione interna ital gas grazie buongiorno buongiorno grazie per essere qui riccardo falconi people and performance director continental europe the craft times company grazie buongiorno grazie e buongiorno raffaella maderna people and communication director lundbeck italia grazie buongiorno grazie a tutti e tre allora ci diamo del tu per sintesi anche perché dobbiamo parlare di persone di individui quindi credo che abbattere le barriere anche da questo punto di vista possa servire e farei una domanda introduttiva per per tutti e tre perché dobbiamo parlare del futuro del lavoro che richiederà sempre un maggiore impegno nel creare un'azienda a misura dell'individuo non so se si faceva già prima questo potrebbe essere una premessa un po provocatoria però me lo direte voi ma adesso è necessario proprio andare in questa direzione e di conseguenza vi chiedo come è cambiato l'approccio al welfare quindi quali sono le strategie nuove che avete messo a punto e come la pandemia ha modificato strutturalmente questo questo aspetto iniziamo da federica sì ok grazie manuela per la domanda hai anticipato quello che in italia se è un po lo slogan da diverso tempo cioè mettere le persone al centro quello che noi facciamo in realtà da sempre è attivare attuare un programma di attenzione alle persone che cerchi di coinvolgere quanto più tutti e di toccare rispondere alle aspettative bisogni di ognuna delle nostre di ogni individuo in quanto sappiamo essere totalmente differenti in italia abbiamo deciso ancora di più a fronte appunto della pandemia di fare del welfare uno strumento di people strategy quindi uno strumento di attraction delle risorse dei talenti ma soprattutto di retention con quali leve siamo partiti dall'ascolto delle nostre persone quindi dal indagare quali fossero i loro bisogni le loro aspettative in un'ottica proprio di dire ok abbiamo fatto sempre tanto abbiamo investito tanto come azienda come tradizione come con tanti strumenti anche che ci derivano da una natura contrattuale appunto che ci portiamo dietro che è molto ricca ma realmente quanto realmente quello che facciamo arriva e quanto realmente quello che facciamo serve quindi abbiamo siamo partiti appunto da una classica indagine e da lì abbiamo costruito un piano d'azione quello che è emerso è sicuramente una soddisfazione da parte delle persone di alcuni strumenti che sono magari quelli un po' più utilizzati ma anche più conosciuti ma soprattutto una non conoscenza della maggior parte di tutto cioè di quello che noi facevamo e in un periodo appunto come quello che questi anni che abbiamo vissuto ci siamo detti ok dobbiamo arrivare dobbiamo arrivare nelle case delle persone nelle famiglie quindi ricominciamo a reinvestire in quello che già abbiamo quindi attenzione alla famiglia ai al supporto ai figli abbiamo attivato nella crisi proprio della pandemia vera il primo lockdown tutta una serie di servizi che abbiamo chiamato welfare response quindi supportare tutti i nostri colleghi che comunque dovevano interfacciarsi anche quella dad la scuola a distanza dei dei nostri ragazzi quindi anche un aiuto di ripetizioni online di supporto di e anche quindi abbiamo toccato quella fascia ma anche ci siamo resi conto che avevamo tantissimi caregiver quindi come aiutarli quindi anche lì abbiamo attivato dei servizi a sostegno di tutti coloro che dovevano bilanciarsi anche con l'attenzione ai propri cari lì abbiamo dovuto anche un po ripensare i servizi che già avevamo noi abbiamo investito tanto in palestre aziendali abbiamo delle bellissime palestre ci siamo detti ok abbiamo fatto questi mega investimenti ma non servono a niente quindi abbiamo lavorato su tutta una serie di servizi di attenzione alla salute al well being delle nostre persone quindi dalla servizi che per realtà da un confronto anche con tante aziende più o meno ci siamo trovati ad attivare tutti quindi dal ti aiuto con l'allenamento online servizi di yoga di postura di aiuto a correggere la postura ora che sono ripartite le palestre adesione al network di palestre convenzionate servizi di nutrizionista ci siamo un po' tutti imbruttiti no quindi siamo diventati con la pandemia tutti i migliori cuochi che comunque poi vanno adesso sembrerà ci siamo messi a sorridere perché fa sorridere però poi vanno a penalizzare anche la resa del lavoro perché se non ci sentiamo bene anche fisicamente insomma questo è corretto quindi abbiamo dato anche quel servizio e per cercare anche di trovare metodi anche di engagement manca di di ritrovare un po' il collegamento la vicinanza anche con i colleghi abbiamo attivato le abbiamo lanciato le health challenge quindi le sfide allo stile di vita più salutare quindi queste competizioni in cui diversi colleghi si diciamo si sfidano a numero di passi al giorno corsa e nuoto e quant'altro io sono sempre stata l'ultima però vabbè però no abbiamo stati tutti sinceri però no perché però io avrei dovuto barare perché comunque insomma quando si è a casa soprattutto si è un pasticciare di più quindi bisogna vedere la sincerità delle persone però però diciamo abbiamo supportato da quel punto di vista abbiamo attivato un servizio di consulenza psicologica anche perché era emerso anche che tutti avevano bisogno di qualcuno con cui confrontarsi e cercare di gestire le paure un po' le tensioni che si sono generate quindi servizi di questo tipo con dei webinar anche rivolti a tutti proprio sulla connessione mente corpo e chiaramente l'attenzione poi alla salute in senso stretto quindi già appunto nel primo periodo abbiamo agito un po' in emergenza quindi con l'attivazione delle assicurazioni appunto per quelli che eventualmente colpiti da pandemia abbiamo continuato per quanto possibile con tutta la campagna di prevenzione oncologica che svolgiamo con delle visite gratuite appunto per i nostri colleghi e con l'attivazione di diversi network che consentano alle nostre persone di accedere a prestazioni sanitarie a tariffe comunque dedicate questo perché parlare secondo me di welfare è diventato ormai riduttivo cioè ormai il welfare è benessere, well being delle persone a 360 gradi quindi un po' un ripensamento in cercare di arrivare un po' a tutti i bisogni in maniera diversa con strumenti diversi per quanto difficile possa essere. Poi se welfare si riferisce solo a ciò che avviene all'interno dell'azienda è un conto se dobbiamo comunque pensare che le persone come ovvio che sia hanno realtà vivono situazioni diverse è un altro conto ancora. Io andrei da Raffaella e poi vado da Riccardo stessa domanda insomma per mettere a confronto le diverse strategie e anche il modo di rapportarsi a queste evoluzioni a tutto ciò che è cambiato. Sì ma io sono totalmente d'accordo con la collega sicuramente l'approccio è totalmente cambiato. Devo fare un piccolo passaggio, un salto nel passato e fare un accenno alle caratteristiche dell'azienda che rappresento che è l'Hunbeck che è una multinazionale farmaceutica di origini danesi quindi devo dire che la cultura nordica è una cultura che da sempre è molto focalizzata nell'ambito delle politiche attive e delle politiche del welfare proprio del benessere della persona. Quindi noi in tempi non sospetti e quindi parlo di sei anni fa e fu quasi pioneristico anche perché uscì un articolo su Sole 24 ore proprio che menzionava come l'Hunbeck avesse deciso con coraggio di destinare la totalità del premio di partecipazione al welfare. Una scelta che noi decidemmo di fare, dico appunto un po' in modo coraggioso perché poi i tempi sono effettivamente cambiati, grazie anche alla partecipazione dei nostri collaboratori che hanno pienamente capito l'obiettivo di questo premio e anche dei sindacati che è stata la terza parte in oggetto e da lì abbiamo cominciato a lavorare proprio sulla cultura del perché fosse importante supportare le persone, la persona nella loro vita lavorativa ma anche soprattutto per quelle che erano le attività poi destinate alle loro famiglie. Quindi da lì devo dire abbiamo iniziato un piano educazionale molto forte che ci vuole perché è la premessa del successo di tante iniziative che poi sono arrivate proprio affinché le persone capissero l'importanza delle iniziative che stavamo destinando. Quindi motivarle, non solo dire vabbè queste sono ma vi spieghiamo perché. Dobbiamo capire, irrazionali. I soldi servono anche a supportare quelle che possono essere servizi di supporto alla famiglia, ai bimbi, alle mense. Tra le altre cose l'UNBEC è una multinazionale farmaceutica che ha una sede a Milano ma anche gli informatori scientifici del farmaco che sono distribuiti su tutto il territorio. Quindi le scelte che facciamo in sede ovviamente sono per il personale che afferisce alla zona di Milano. Quindi noi dobbiamo pensare anche al territorio. Questo è il motivo per cui con la piattaforma Welfare siamo stati in grado di soddisfare e quindi costruire su misura, a seconda delle esigenze delle persone, quelle che potevano essere iniziative. Quindi da lì abbiamo esordito con una buona cultura di base, quindi educazione sulle persone. Abbiamo lanciato una piattaforma di smart working dove abbiamo posto al centro la responsabilità di quello che tu fai, di come organizzi il tuo lavoro e quindi la forte fiducia, perché c'è anche questo concetto della fiducia nei propri collaboratori. Ed eccoci qua che arriva la pandemia. Ora, siamo ovviamente nella tragicità, devo dire che abbiamo avuto il coraggio e questo lo vedo anche dalle tante iniziative che tante aziende hanno messo in atto. Ho visto che c'è stato proprio un cambio radicale dell'impostazione dove si è veramente andati ad orientare al benessere della persona. Cioè, come potessimo in quella fase, in quel momento, tutelare la persona sia da un punto di vista sanitario, perché ovviamente il primis c'è stata la salute delle persone, quindi assicurazione che potesse tutelare il tema del Covid. Noi abbiamo appunto informatori che sono in ambienti ospedalieri e quindi molto pericolosi da un punto di vista di salute, in particolar modo nel primo momento di Covid. Da lì siamo partiti e abbiamo aperto un portale che abbiamo chiamato Wellbeing, Being Well, in cui il nostro motto è stato Men sana in corpore sano. Quindi stesso ITER, aree di riferimento sono state quelle della postura, perché siamo passati da relazioni sociali, in particolar modo gli informatori che sono spesso in giro, quindi sovente fuori. A contatto con le persone, certamente. A contatto con le persone si sono ritrovate in un contesto completamente diverso, quindi il tema della postura, il tema della gestione dei figli. Abbiamo portato avanti i programmi di Kids Edutainment, quindi educazione e divertimento. Tutto ciò che ha a che fare con la conciliazione, con la vita familiare, che in teoria è sempre da tenere a mente, però insomma in questo contesto ancora di più è diventato necessario. Poi siamo passati al tema della nutrizione per arrivare al tema più delicato delle emozioni, che è un po' come dire tutto ciò che alleggia attorno alla parte psicologica della persona. Anche perché ciascuno ha reagito a modo proprio, nel senso che ci sono diverse sensibilità, anche questo dirò una cosa banale, sempre così, però soprattutto quando ci sono momenti emergenziali la reazione è sempre molto molto diversa. Grazie Raffaella perché anche questi esempi sono assolutamente utili. In modo provocatorio mi verrebbe da dire che stiamo ascoltando anche esperienze di aziende che già prima della pandemia comunque avevano messo in atto delle strategie, mettevano in atto delle strategie in questa direzione. Bisognerà capire, questo si vedrà solo tra un po', poi magari ve lo chiedo in ultima battuta, se chi non aveva ancora effettivamente avviato questi processi virtuosi adesso si sta convincendo a farli. Questa è forse la sfida principale. Riccardo, vostra esperienza, stessa cosa? Ma, innanzitutto grazie per l'invito. Allora, io provo a dare un'accezione leggermente diversa perché molto di quello che ho sentito dalle colleghe sono esperienze che abbiamo vissuto anche noi in Kraft Heinz. Abbiamo, diciamo, qui in Italia una struttura simile a quella appunto di Lundberg perché abbiamo anche noi una rete di informatori e ovviamente una rete di venditori, quindi abbiamo un team misto che va da persone d'ufficio a persone viaggiante di field. Secondo me l'aspetto che mi piace portare qui è proprio quello che il welfare nell'ultimo periodo ha cambiato dall'essere un qualcosa di oggettivo a soggettivo e questo secondo me è proprio l'elemento che più di tutto abbiamo imparato, almeno nella nostra esperienza. Cosa vuol dire? Facendo un passo indietro anche noi abbiamo già qualche anno fa inserito il welfare all'interno della parte retributiva dei nostri dipendenti, è parte del premio per obiettivi e viene erogato attraverso una piattaforma a cui si accede a diversi servizi, servizi che però appunto sono di per sé definiti da qualcuno terzo che quindi va comunque a definire sì in funzione di specifiche esigenze ma magari non va a centrare esattamente l'individuo, quello che è l'esigenza dell'individuo. Ecco l'insegnamento più importante che forse noi abbiamo avuto in questo periodo di pandemia è proprio di andare a cercare di andare al di là del welfare inteso come pacchetto di servizi o di attenzioni che si danno alla persona e ad andare a capire qual è l'esigenza specifica dell'individuo. In particolare nella nostra realtà ci siamo trovati a diverse tipologie di reazioni alla pandemia. Abbiamo persone tendenzialmente un'età media abbastanza bassa, quindi realtà di magari studenti o persone neolavoriate che lavorano da soli fuori sede trovandosi in un appartamento senza avere contatti con altri. Dal polo opposto famiglie, faccio il mio esempio, in cui magari i bambini di prima elementare che devono imparare a leggere e scrivere mentre i genitori sono a casa a lavorare. Ecco questo è quello che ha guidato un po' il nostro approccio. Quindi innanzitutto per quelle che erano le esigenze di persone magari appunto da sole e legate più alla socialità, di creare dei momenti di incontro attraverso gli strumenti informatici, ma dalla colazione di team a tutta una serie di attività anche di formazione e informazione sia sul mental well-being che il physical well-being, quindi un po' quello che abbiamo già raccontato precedentemente, ma in parallelo anche guardando alle persone che hanno delle esigenze, si trovano in esigenze di vita, a dove fare altro al di fuori del lavoro e quindi qui in due ambiti. Uno dando delle regole molto specifiche, è un aspetto interessante di una multinazionale come la nostra di lavorare con tanti paesi che hanno abitudini diverse e anche molto spesso fuso orari diversi e quando uno deve conciliare, riuscire a parlare con un collega e non averlo a disposizione fisico, deve necessariamente bloccare un'agenda e ti trovi in una situazione in cui l'agenda è al 100% bloccata, senza spazio per mangiare, senza 5 minuti. E' stato il rischio poi più, perché poi va direttamente a riversarsi sul benessere della persona, di fare troppo, di più, di non avere orari, perché poi anche quello, tanto sono a casa e anche se ricevo una telefonata alle 8 va bene, ni, perché magari abbiamo iniziato comunque alle 7 della mattina. Assolutamente, ed è esattamente quello che poi abbiamo provato a regolamentare, cioè darci dei codici di condotta, delle etichette, diciamo così, un galateo, una sorta di galateo di rispetto, di appunto le esigenze che le persone possono avere, banalmente riducendo le riunioni di 5 minuti proprio da calendario, garantire un blocco per la pausa di pranzo, per garantire che non ci siano incontri dopo le 18, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi garantire anche a chi avesse delle esigenze a casa specifiche di dargli il tempo. Il tema della genitorialità e dei bambini anche noi l'abbiamo affrontato in maniera abbastanza forte, cercando di dare sia un supporto di intrattenimento, se vogliamo, ai bambini, ma anche appunto dare successivamente, questo è qualcosa che rimane ancora oggi, un supporto anche concreto dal punto di vista economico o di attività di ricreazione appunto per chi ha figli. Sì, perché poi il tema, attorno da Federica, è quello di evitare che le energie si disperdano, proprio perché poi si deve andare verso il rendimento totale, cioè non bisogna in qualche modo penalizzare quelli che sono gli obiettivi aziendali. A questo punto ti chiedo come massimizzare il rendimento e l'efficacia di un welfare e quali sono gli strumenti che bisogna mettere in campo in questo contesto? Sì, diciamo che è stato bello vedere e confrontarsi anche poi con i colleghi con le diverse esperienze e vedere poi che anche se le realtà sono totalmente differenti, tutti abbiamo cercato di arrivare, di fare e di far sentire appunto la vicinanza. Noi partiamo da una situazione in cui Italgas è distribuita territorialmente, come siamo un po' ovunque su tutto il territorio nazionale e abbiamo una percentuale anche molto alta di blue collar, quindi in realtà ci siamo resi conto che, ci siamo chiesti e ci siamo interrogati ok, ancora una volta vogliamo fare ma come possiamo arrivare, come effettivamente l'investimento che diamo ci darà un ritorno e sarà apprezzato. Quindi come anticipavo prima sicuramente un primo step è stato quello di ascoltare le esigenze tramite appunto un'indagine, un'indagine che ci è stata appunto diffusa, un po' fatta conoscere a tutti anche tramite il passaparola perché io credo che per tutte le iniziative che noi avviamo la cosa più importante sia il passaparola tra di noi, nel senso non c'è mail, newsletter che tenga rispetto all'esperienza diretta di approfittare di un servizio e poi raccontare come l'ho vissuto, qual è l'esperienza e come ne ho beneficiato poi tra i colleghi. Quindi siamo partiti dai risultati, siamo partiti da quello che dicevo prima, da un grado di conoscenza di tutto quello che facciamo molto molto basso. A questo punto siamo partiti proprio chiedendo alle persone anche come nominare la nuova piattaforma di welfare, abbiamo detto ok, proviamo a quello che abbiamo, c'è sempre quello ma proviamo a ricostruirlo insieme, quindi come volete che la chiamiamo e quindi è stato molto carino perché inizialmente ci dicevano basta inglesismi, basta inglesismi però poi alla fine hanno votato un nome che è Wellgas, che comunque un pochino riprende il concetto di wellbeing, riprende chiaramente la parola del gas, comunque del settore, però ci ha molto divertito quest'idea. Quindi siamo partiti dal rivedere anche proprio la user experience delle persone, quindi costruendo una piattaforma che raccogliesse tutte le informazioni anche un po' sparse di tutti i benefit, assicurazioni che avevamo un po' sparsi anche nella intranet o che magari non erano mai state, i colleghi non sapevano dove trovare determinate informazioni e quindi abbiamo fatto il lavoro di raccolta e diciamo di utilizzare un unico strumento di di comunicazione e di raccolta delle informazioni, un contenitore in cui le persone si ritrovassero. Da lì siamo partiti con il servizio del mese, cosa ne pensi di questo, piuttosto, e tutti i servizi, le iniziative, le campagne che abbiamo lanciato le abbiamo promosse con strumenti un po' classici, quindi la famosa newsletter di cui parlavamo, ma soprattutto costruendoci un'identità proprio come welfare all'interno dell'azienda. Infatti, coinvolgendo proprio tutti quanti, in modo più massiccio insomma, sicuramente. Assolutamente, ma anche dando dei riferimenti aziendali alle persone, quindi le persone, anche non solo il canale esterno, ma proprio internamente loro sapere a chi rivolgersi. Il coinvolgimento diretto, siamo stati fortunati perché abbiamo un top management che crede molto anche in questa cultura di attenzione alle persone e credo che questo sia importante anche per trasmettere il valore su tutti, su tutti i livelli e questo sicuramente ci ha aiutato. Se dovessi tirare le somme ora, io guardo i risultati e mi rendo conto che rispetto allo scorso anno, nonostante una pandemia di questo tipo, nonostante le difficoltà anche di accesso magari ai canali informatici, eccetera, per assumere una fascia di popolazione, abbiamo raddoppiato le persone che utilizzano almeno un servizio e per l'investimento che noi abbiamo è davvero, a mio avviso, un bel risultato. Importantissimo, sì, poi oltretutto coinvolgendo sempre di più le persone, le persone riescono a tirar fuori le potenzialità e l'azienda di conseguenza sfrutta in senso positivo le potenzialità per raggiungere gli obiettivi appunto aziendali, quindi è un assolutamente, si parla spesso della maggiore responsabilità che è stata data alle persone e che però si traduce poi i maggiori benefici anche per l'azienda, assolutamente. Ritorno da Riccardo e poi ritorno da Raffaella, perché Riccardo restiamo ancora sulle strategie, su modelli e strumenti per capire quali saranno quelli più necessari da mantenere nel lungo termine, perché poi è vero, adesso stiamo ragionando su quello che è cambiato in periodo emergenziale e su quello che è evoluto, ma dobbiamo ragionare in modo più strutturale, quindi sul medio-lungo termine e come riuscire a misurare nel tempo tutto quello che stiamo dicendo in qualche modo. Assolutamente credo che l'insegnamento che ci ha dato questo periodo porterà dietro delle attività, delle iniziative che sono destinate a durare. Io credo che un elemento che abbiamo citato poco fa, quello di responsabilizzazione delle persone, sia uno degli aspetti più rilevanti. Abbiamo citato prima come è importante guardare al benessere dell'individuo in quanto tale, con le sue specifiche esigenze di vita e quant'altro. Questo secondo me è uno degli aspetti che le aziende continueranno a guardare, ovvero la capacità di sviluppare una sensibilità maggiore nel capire le esigenze. Questo secondo me porta dietro tanti aspetti. Parlando di responsabilizzazione significa abilitare le persone che gestiscono persone ad intercettare determinati rischi. abbiamo parlato di mental well-being, quindi di tutti quelli che sono rischi legati al cosiddetto burnout, quindi a tutte attività, a quello che il sovraccarico lavorativo o di stress può portare. Educare manager e persone che gestiscono altre persone a intercettare, a saper gestire e avere quell'intelligenza emotiva tale da capire cosa sta accadendo è uno, secondo me, degli aspetti che per chi non l'ha ancora fatto è destinato a diventare un tema importante, migliorare la qualità dei propri manager. Ecco quello che dicevo prima, per chi non l'ha ancora fatto, perché poi questa è la sfida maggiore, no? Ampliare il numero delle aziende che effettivamente vanno lì. Assolutamente sì, così come continuare a rinforzare dall'altro aspetto, guardando sempre all'individuo, quelle che sono le esigenze che ha. Quindi un aspetto importante è appunto il tema della genitorialità e del bilanciamento vita-lavoro, quello è sicuramente un'area in cui le aziende si muoveranno e continuano a muoversi e nel nostro caso specifico dando supporto concreto attraverso, ad esempio, rimborsi economici per chi ha figli sotto i tre anni e li manda al nido, piuttosto che adesso, non lo dovrei dire perché lo lancieremo a gennaio, ma è l'estensione del periodo di paternità o maternità facoltativa fino a due mesi dopo la nascita del figlio, che ha un obiettivo anche di lavorare in una direzione di diversity and inclusion, perché non dimentichiamo che la maternità o la paternità a seconda è un elemento che molto spesso può rappresentare un blocco nel percorso di carriera e noi cerchiamo di andare in una direzione di inclusione anche da questo punto di vista. Quindi questo è l'aspetto soggettivo, quindi le persone. E poi esiste un tema fortissimo con quello della flessibilità. Abbiamo lavorato di fatto un anno e mezzo, due anni da casa, diciamo più o meno tutti sono convinti che in qualche modo funziona. Credo che tutti si stiano interrogando a oggi qual è il giusto bilanciamento, lavoriamo interamente da casa, facciamo un mix, torniamo tutti in ufficio. Ecco, credo che questo sia un tema che è destinato a restare. Dal nostro punto di vista noi manterremo questo tipo di flessibilità garantendo un lavoro 60-40, quindi tre giorni dall'ufficio e due giorni da remoto, ma anche la possibilità di estendere fino a un periodo di quattro settimane consecutive il lavoro da remoto. Come dicevo, noi abbiamo tanti profili internazionali, quindi magari c'è qualcuno che aggancia le ferie e ritorna nel proprio paese d'origine. Ultimo aspetto, cambiando la flessibilità nell'ufficio e quindi l'utilizzo dello spazio ufficio è qualcosa che anche, credo, andrà a cambiare. Non strettamente legato a welfare, ma il motivo per cui si va, si andrà in ufficio è diverso da quello per cui si andava prima. Quindi emergono temi di socialità, di teamwork, di intrattenimento che vanno anche probabilmente a impattare su come il layout dei nostri uffici è destinato a diventare. Quindi ad accogliere esigenze diverse e finalità diverse rispetto alla semplice postazione dove mi siedo al computer del lavoro. Assolutamente sì. Uno sguardo sicuramente più ampio. Raffaella, questa domanda sembrerà un po' scontata, ma non lo è per niente, anche perché poi magari ci può aprire altri punti. Multinazionale farmaceutica, nel nostro mood c'è assolutamente, focus anzi, sì, mood, focus, chiamiamolo come vogliamo, la salute del cervello. Quindi come si declina questo tema del benessere delle persone, più nello specifico ancora di più, insomma, come garantirlo sempre in modo più strutturale. Sì, infatti ritorno un po' al codice genetico che poi è la purposa della nostra azienda, che è quella di dedicarsi instancabilmente alla salute del cervello affinché ogni persona possa essere al proprio meglio. Quindi su questa riflessione, ovviamente l'UNBEC come azienda lavora da sempre, da oltre 70 anni, nella commercializzazione dei farmaci, nella ricerca e sviluppo, nella produzione, ma anche e soprattutto nel creare awareness, quindi parlare, educare le persone su quella che è la salute mentale. Quindi con la classe medica, ma anche a livello di comunicazione istituzionale, stiamo lavorando tanto sul tema del pregiudizio, perché non si parla liberamente di salute mentale, di disagi, quindi c'è anche questa tematica. Quindi ovviamente il nostro impegno che viene fatto verso l'esterno, ci siamo ovviamente chiesti e per questo abbiamo deciso di intraprendere un forte investimento anche verso l'interno, anche verso le nostre persone, perché la nostra purpose si rivolge anche alle nostre persone, affinché ciascuna delle nostre persone possa sentirsi al meglio, possa vivere bene l'azienda, quindi il benessere, il ben stare in un'azienda e quindi essere ingaggiati, motivati. E mi ricollego al tema delle emozioni, che in effetti è un tema che ci ha fatto riflettere. Durante la pandemia abbiamo fatto delle survey proprio per capire le nostre persone, in particolar modo gli informatori che erano distribuiti sul territorio e che sono trovati una modalità lavorativa completamente differente, come che tipo di esigenze avessero. Ci siamo accorti che questo tema della relazione, della socialità, anche del vivere quotidianamente una modalità diversa fosse un tema molto delicato. Quindi questo è il motivo per cui abbiamo avviato nella pandemia uno sportello psicologico, perché comunque sappiamo che poteva essere utile, può essere utile per un supporto individuale. Quindi qui lasciamo ovviamente la libera decisione delle persone, cioè non è certo l'azienda, però è anche importante lanciare il messaggio che l'azienda si sta occupando e può essere un aspetto assolutamente normale il fatto che una persona non si possa sentire al 100% della sua, del suo benessere, per anni, motivi, perché stress lavorativo, problematiche varie. Il fatto di trattare questo tema come un qualsiasi altro tema che poi si tratta in azienda, il messaggio deve essere quello. Esatto, e quindi abbiamo deciso di lanciare una serie di webinar proprio che andasse a diffondere e a culturare le nostre persone sulle tematiche del disagio psichico, che si può poi trasformare in disagio mentale. Quindi ci sono anche dei passaggi tecnici diversi di quelle che sono le forme di depressione anche magari nelle varie fasi dell'età, della persona, del burnout, dello stress. Quindi da qui abbiamo lanciato una serie di formazioni che andasse proprio a prendere queste tematiche, anche facendo delle partnership con delle associazioni esterne, creando delle sinergie, per esempio sulla violenza delle donne, che comunque è una tematica che apparentemente potrebbe essere, invece va a toccare il tema della diversità, del pregiudizio, proprio della salute della persona anche in termini di salute mentale. Quindi questo ci aiuterà sicuramente a rafforzare quella che possiamo definire la nostra mental health strategy per i prossimi anni. Quindi è un lavoro work in progress. Da lì aggiungo anche il tema che secondo me dobbiamo andare a prendere in considerazione come azienda, come organizzazione delle generazioni che ci sono all'interno dell'organizzazione che sono variegate. Cioè noi ci troviamo oggigiorno ormai a gestire delle persone, una fascia di popolazione, abbiamo un'età media di 47 anni. Però effettivamente con tante assunzioni che abbiamo fatto abbiamo tanti giovani all'interno della nostra organizzazione. e l'approciarsi al tema del benessere psicologico è diverso. Cioè le persone vogliono parlarne di più. Forse nelle generazioni, diciamo, dei baby boomers era più vissuto come un tabù. Non facciamo vedere che non siamo, nascondiamo tutto ciò che è privato nel mondo del lavoro, nell'azienda, in ufficio. E invece ci sono modalità diverse di affrontare questa tematica anche tra le generazioni. Quindi noi non possiamo non considerarle. Quindi questi sono aspetti che si possono vedere soprattutto anche nelle giovani generazioni. L'anno scorso abbiamo fatto un progetto di alternanza scuola-lavoro. Abbiamo lavorato con delle ragazze che erano in quinta superiore e abbiamo chiesto a loro come all'interno del mondo scolastico venisse affrontato questo tema. Abbiamo visto che lato persone, quindi lato giovani, loro ne vogliono parlarne, non hanno vergogna di parlarne. Probabilmente più l'ambito familiare stesso, quindi c'è proprio una barriera già all'interno della famiglia, l'ambito scolastico e poi da lì l'ambito aziendale. Però quello che sicuramente ci fa coraggio è che tante sono le aziende che hanno messo in atto tante iniziative che vanno proprio su questa direzione della... Questo è un buon punto di partenza, anche di buon auspicio proprio. Poi è vero questa cosa per cui si diceva sempre, no, no, ciò che è fuori dal lavoro si tenga fuori dal lavoro. Però dipende. Oggi poi è cambiato molto il modo di rapportarsi all'esterno, nel senso anche con tutti i mezzi di comunicazione in più che abbiamo, le nuove tecnologie, quindi già probabilmente le nuove generazioni sono più abituate proprio a esternare tutto quello che fa parte del loro... l'intimo che parla ciascuna, a seconda della predisposizione a parlare o meno, chiaramente. Però è vero, spesso a volte magari non parlare fa... crea una situazione peggiore. Stavi dicendo qualcosa? Perché poi torno da te con una domanda che peraltro riguarda le nuove generazioni. Infatti è proprio legato a questo, secondo me, l'aspetto che le nuove generazioni invece hanno proprio un'esigenza di esternare, di raccontare e sentire comune con l'azienda, quindi è un avvento... Vogliono proprio instaurare questo tipo di rapporto. A questo proposito cerchiamo di capire anche come rapportarsi proprio alle nuove generazioni, anche nella scelta di persone che devono entrare a far parte dell'azienda stessa. Le richieste sono cambiate, e lo stavamo dicendo, le esigenze sono cambiate. Anche i giovani immagino, no, quando si siedono banalmente per sostenere un colloquio, reagiscono in modo diverso rispetto a una persona di un'altra età. Ecco, cerchiamo di capire un po' come è la situazione in base alla vostra esperienza. La nostra esperienza è abbastanza interessante, porto un numero giusto per dare un contesto. Il nostro personale in Fiscio ha un'età media di intorno ai 31 anni, quindi abbiamo tantissime iniziative legate al reclutamento di neolaureati, treni, eccetera, eccetera. Quindi una grossa parte dei nostri interlocutori sono molto giovani. E non solo il colloquio di lavoro è cambiato, è cambiato proprio la tipologia di valutazione che un candidato fa nello scegliere un'azienda. Io sono sempre convinto del fatto che passando tanto una grossa fetta del proprio tempo al lavoro è importante che ci sia qualcosa da condividere con la propria azienda. Quello che vedo è che nelle nuove generazioni questo sta diventando ancora più importante, sta diventando forse il primo driver di valutazione. Il concetto di purpose, quindi di obiettivo che l'azienda si dà sia da un punto di vista di missione più ampio, ma anche nei valori che poi rappresenta, è uno degli aspetti che viene ad oggi più valutato. Le domande che mi vengono più frequentemente fatte dai giovani è se effettivamente uno dei nostri valori, che ad esempio è We Demand Diversity, è effettivamente vissuto. Che tipo di iniziative abbiamo in pista? E in aggiunta a questo, che appunto parla un po' alle grandi tematiche valoriali, diciamo così, quindi con aspetti come la diversity, adesso anche l'interpress social governance, quindi l'impegno sociale, eccetera. In aggiunta a questo la pandemia ha portato anche, quello che raccontavamo prima, legato alla flessibilità. Una delle domande più frequenti è che tipo di flessibilità date sul lavoro? Cioè quanti giorni devo essere in ufficio, quanti giorni posso lavorare da casa? Quindi lo chiedono proprio, è una domanda che viene chiesta, non si aspettano che voi lo diciate, lo anticipano? Ed è un criterio di valutazione, non solo lo chiedono, ma soprattutto lo pesano e lo valutano, perché è diventato parte integrante, soprattutto per quelli che hanno iniziato a lavorare negli ultimi due o tre anni, della normalità. È qualcosa che noi stiamo vedendo sempre più fortemente. Certamente, anche questo è molto interessante. Magari chiedo anche a Federica e a Raffaele la stessa cosa, insomma cosa state verificando nel confronto con le nuove generazioni? Cioè cosa stanno mettendo in primo piano? Sì, a differenza in realtà dell'azienda del collega, noi abbiamo un'età media di 56 anni, quindi diciamo che siamo sempre abituati a lavorare con un target chiaramente differente dalle persone che in realtà poi ora stiamo anche provando a cercare e ad attrarre. Il lavoro quindi che abbiamo fatto è stato un po' cercare di lavorare sull'identità di Talgas, quindi come comunicare l'Italgas anche alle nuove generazioni. Quindi il collega ha già toccato tantissimi punti importanti, quindi a mio avviso in una selezione, oltre che partecipare sempre di più a Career Day, piuttosto che eventi anche ora digitali, un po' di avvicinamento, non solo abbinarsi alle diverse università che li promuovono, ma ne abbiamo fatti interni, abbiamo noi una società, Blue Digit, che si occupa proprio di innovazione digitale. e questo sicuramente è quello che attrae molto di più le persone, stiamo lavorando tantissimo a quel punto sull'immagine che abbiamo e sull'attenzione che noi abbiamo su tematiche di diversity, di inclusion, di innovazione e credo che, come diceva, il work life, l'attenzione che l'azienda ha al work life balance e alla flessibilità siano sicuramente aspetti molto importanti. a quel punto però la sfida sta a noi nel saperlo comunicare, quindi ci rendiamo... o le strategie di comunicazione che si vanno a dare di pari passo con i cambiamenti del welfare di cui stiamo parlando. Assolutamente, quindi una totale world strategy, quindi non soltanto la retribuzione fissa, ma cosa ti do io in più in termini di welfare, in termini di flessibilità, in termini anche di sviluppo interno che tu puoi avere, quindi di supporto alla crescita delle tue competenze personali e professionali. Dobbiamo pensare che non finalmente, cerchiamo di capire dove vogliamo arrivare, credo di sì perché è il tema della tavola rotonda, abbiamo abbandonato un po' l'idea fissa del posto fisso, cioè non è più solo quello che interessa, certamente la solidità di un posto fisso o comunque di un posto di lavoro è fondamentale, credo che quello rimanga in pole position a prescindere dall'età di riferimento della persona che sta scegliendo il posto di lavoro, però contano magari più altre cose, il fatto di poter gestirsi e di avere questa flessibilità di cui parliamo da anni, ma che spesso si è trasformata solo in precarietà e non appunto flessibilità come invece la stiamo raccontando oggi. Raffaella, vorrei sentire anche la tua. Sì, io mi trovo d'accordo con quanto detto, sicuramente l'allineamento tra il sistema valoriale e persona-azienda è fondamentale, cioè in tutti e due sensi, a doppio senso, cioè le aziende sempre di più vorrebbero delle persone che siano allineate al sistema valoriale e che credano nell'azienda, nel suo purpose e viceversa le persone si vogliono sentire rappresentate da un'azienda che porta avanti delle progettualità nell'ambito di sostenibilità, di ambiente, di diversity, di attenzione, di affrontare anche tematiche che possono apparentemente essere diverse da quelle che sono aspetti lavorativi, ma che si integrano poi perfettamente con le competenze e lo sviluppo professionale. Aggiungo il tema del fatto che le persone vogliono lavorare in team, cioè quindi la necessità di scambio continuo, avere dei riferimenti continui. Quindi è vero che è importante che ci siano delle strutture gerarchiche, che è un'organizzazione di riferimento, ma che a fronte di una progettualità poi ci siano diverse competenze che si lavorano tra di loro. Quindi c'è proprio questo, io vedo tantissimo in azienda come poi si creano dei sottogruppi di lavoro a seconda dei progetti che vengono gestiti, dove c'è questo scambio, magari anche tra persone, diciamo, più giovani, della stessa età o con poca esperienza, con persone che hanno più esperienza, perché anche lì, abbiamo visto diverse età medie, però comunque non è che possiamo dire o uno o l'altro, cioè noi dobbiamo convivere con diverse fasce di popolazione e farne un valore aggiunto per l'azienda e quindi anche il cross che si mischia, che crea mix generazionale è poi quello che determinerà ancora di più e potenzierà il successo dell'azienda. è una delle precedenti tavole, nel senso che questo è un ecosistema talmente variegato che non si può appunto differenziare, con tutte le differenze che però possono arricchire il tema e quello. E poi secondo me aggiungo questa voglia di apprendere, di andare, di vivere un'azienda e di avere l'opportunità di avere un grosso approfondimento, nel nostro caso scientifico, di area terapeutica, essendo un'azienda specialistica, ovviamente questo rappresenta un approfondimento e un valore aggiunto per le persone. Poi c'è sempre il desiderata dell'estero, perché comunque nelle nuove generazioni permane un po' questo senso di mobilità, del resto sono generazioni che hanno iniziato a viaggiare e non hanno confini e di conseguenza lo vorrebbero vivere anche in azienda. In due anni invece non abbiamo potuto far nulla, quindi immaginiamoci poi come probabilmente è emersa ancora di più questa voglia di riprendere. Bene, noi siamo in chiusura di questa tavola rotonda, che è davvero stata molto molto importante e interessante, peraltro tra poco riprenderemo nel prossimo momento di lavoro della giornata, riprenderemo il tema della flessibilità degli spazi di lavoro, perché anche qui è una parola che abbiamo spesso un po' frainteso e declinato in modo sbagliato, però adesso mi pare che ci stiamo dirigendo sul binario giusto. Grazie Federica Di Lauro, grazie Riccardo Falcone e grazie Raffaella Maderna per averne parlato con me e con noi in questo forum. E a presto, insomma, ci rivediamo presto per capire un po' allora come avete dosato bene tutti questi ingredienti. E noi naturalmente continuiamo appunto, prossima tavola rotonda, ci vediamo tra pochissimo. A presto, insomma, ci vediamo tra pochissimo.